I primi mesi sono stati positivi per quanto riguarda il controllo del territorio, fermo restando che la situazione pandemica porta ad effettuare delle riflessioni, ma soprattutto anche a rimodulare quelli che sono stati i nostri controlli. Controlli che sono stati effettuati di concerto con i colleghi del NAS, del NOE e del NIL, nelle specifiche materie anche per verificare rispetto anche all'interno dei luoghi di lavoro del DPCM. A questi abbiamo poi aggiunto i normali controlli, quelli che effettuiamo ogni giorno, quindi con le nostre pattuglie, soprattutto con quelle delle stazioni, che hanno verificato il rispetto del DPCM per quanto riguarda gli esercizi commerciali più piccoli, ma anche per evitare assembramenti e rispetto delle mascherine. In ambito invece di controllo del territorio più puro abbiamo qualche giorno fa, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, uno dei due rapinatori della rapina avvenuta a Polla il 15 agosto all'interno della sala scommesse, ma soprattutto il nostro controllo non è mai scemato nemmeno in questi giorni e ci auguriamo e soprattutto siamo sicuri che nei prossimi giorni i cittadini ci daranno una mano per quanto riguarda il rispetto del nuovo DPCM che verrà a breve emanato. A questo dobbiamo aggiungere che ci saranno sicuramente controlli nei giorni festivi, ma in tutto l'arco che va dal 21 fino all'epifania, proprio per evitare assembramenti e per evitare che ci siano situazioni che poi magari possono creare problemi nel rispetto generale del DPCM, quindi negli spostamenti e negli incontri in generale, ma sempre con spirito di collaborazione comunque con la cittadinanza. È importante sicuramente segnalare quelle che sono eventuali situazioni che possono creare problemi dal punto di vista dell'ordine della sicurezza pubblica. Mi riferisco comunque sia a quello che è il normale controllo del territorio, quindi una macchina sospetta, soggetti sospetti che magari non sono del luogo e che quindi si aggirano soprattutto in determinati orari nei pressi dell'abitazione. Ne arrivano molte di segnalazioni e noi cerchiamo di approfondirle tutte, perché il cittadino, ripeto, ci dà molti spunti che poi le stazioni riescono comunque con il loro lavoro ad approfondire. Mi aspetto per il 2021 sicuramente un anno migliore per tutti e speriamo che il frutto anche del nostro lavoro venga comunque coronato da ulteriori e prestigiosi risultati, ma soprattutto tesi a migliorare quello che è la vivibilità e la percezione della sicurezza da parte del cittadino.